ma buongiorno cuore buongiorno oggi il tempo è partito nuvolucoso adesso invece si sta schiarando sta scendo un po il sole eh vabbè senti com'è sto fatto che dobbiamo informarci per il fatto del macchinario per la dialisi sulla nave cioè ma tu mi vuoi far morire a me eh di felicità ovviamente eh eh ma subito ci mettiamo in moto non c'è problema cuore eh poi sicuramente sicuramente c'è la possibilità c'è la possibilità sicuramente adesso si ritorna e poi non ci sono problemi eh te lo dico al babbo eh vedi che c'è la mangià che risolviamo tutto e subito a costa di comprarsi il macchinario eh quindi stai tranquillo magari si potesse fare una cosa del genere devi solo farmi sapere insomma eh no continuo c'è il mondo di sì certo no vabbè sto sognando con occhi aperti sto sognando con occhi aperti dopo dopo video dopo video mannaggia a te mannaggia a te mannaggia eh 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 vabbè tanto alla fine tanto stare là eh non ti preoccupare faccio io il fisioterapista speriamo solo che riusciamo a sistemarsi quel power port così poi non abbiamo problemi di niente eh eh sì non è che ci vuole niente facciamo sia per le trasfusioni e sia per la dialisi eh sì no secondo me si può si può eh eh sì non ti preoccupare non lo so adesso chi deve autorizzare il questo viaggio eh se il medico oppure uno decide di di farlo da solo oppure possiamo parlare col babbo bene vediamo un po' no vabbè sarebbe per me sarebbe la fine del mondo cioè capito sarebbe toccare il dito con un cielo cioè mi renderesti la persona più felice del mondo poi già immagino là su una nave sì vabbè ma non è che ti esagererà a mangiare eh tanto sto io a fianco dirai questo rompicogliore no vabbè ma tanto io sono molto permissivo figurati non va bene qua va bene no ci informiamo adesso subito ci mettiamo in moto eh no mo dici che ieri si è dimenticato di dirmi un altro sono detto ma tu queste cose ti dimentichi di dirmi ma sei impazzito oh vabbè ma mi sono dimenticato annaggiala ma sai vabbè fammi andare al lavoro fammi eh vediamo un po' che sono due giorni che abbiamo fatto un cazzo vediamo oggi come va eh senti e e poi niente vabbè stasera c'è giù che la Bari la Bari dai dai qualche rinforzo sta arrivando dai vedrai che mi saldrizza saldrizza sta squadra beh cuore mio e niente ci sentiamo dopo ok stai tranquilli riposati anche oggi dai che ma lì ti hanno parlato della piscina già già sanno ti hanno informato ti hanno detto qualcosa guarda non è che ti devo andare a prendere il costumino eh vabbè sicuramente avrà già provveduto il babbo ne sono certo quello avrà già ha preso l'inimmaginabile già secondo me ha dato indicazioni di tutto ciò che ti serve però se ti dovesse servire qualcosa è inutile che te lo dica basta solo chiedere eh ma ben ma ben e ci sente uno no non sto immaginando la nave capito ma buon un bacio un cuore e un abbraccio grazie a tutti